Si è insediato il nuovo presidente del Tribunale di Taranto. Si tratta di Anna Rosa De Palo, 63 anni, originaria di Bitonto. Negli ultimi 18 mesi il ruolo era stato ricoperto dalla dottoressa Anna De Simone dopo il pensionamento dell'ex presidente Franco Luca Fo. Il giudice De Palo è stata presidente del Tribunale dei Minori di Bari e presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale barese. Anna Rosa De Palo ha ottenuto la nomina con l'ok del Consiglio Superiore della Magistratura con 15 consiglieri favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti. La cerimonia che ha sancito l'insediamento si è svolta presso il Tribunale di Taranto nel pieno rispetto delle norme restrittive del distanziamento sociale alla presenza tra gli altri del procuratore aggiunto della Repubblica, il dottor Maurizio Carbone e del presidente dell'ordine degli avvocati di Taranto, l'avvocato Fedele Moretti. Grazie. Grazie. Grazie.